I mutasi, tari e altri tributi. Nessuna sorpresa in bolletta per i cittadini di Nocera Inferiore. La Giunta Comunale ha deliberato le nuove aliquote per il 2017. Rispetto allo scorso anno però non cambia nulla. Maglio Torquato e i suoi assessori hanno deciso di mantenere la stessa linea senza mettere le mani in tasca ai cittadini. Per l'Imu e la Tasi sono confermate le decisioni 2016. Sesso vale per le affissioni e l'occupazione di suolo pubblico. Per la tari invece si farà riferimento a quanto deciso nel 2014. I nocerini dovranno coprire 9.327.225 euro previsti per la tassa sui rifiuti. A questi soldi sarà giunto il contributo del Miur di 50.000 euro e 650.000 euro quale provento ipotizzato per la differenziata. In modo da coprire i 10.027.225 euro preventivati quale spesa complessiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Abbiamo lasciato invariato la tassazione di competenza comunale mantenendo questo trend positivo per la cittadinanza perché non vi è stato incremento della tassazione su rifiuti che anzi abbiamo mantenuto ridotta del 20% come quando abbiamo iniziato l'azione dell'amministrazione nel 5 anni fa. Sulle aliquotite Imu che invece avevamo massimizzato sulla prima casa resta invariata quella aliquotite tassazione mentre è stata ridotta ma già durante la scorsa previsione di bilancio la tassazione sulla seconda casa di un 0,4 punti percentuale rispetto al massimo previsto. Il resto delle tariffe per i tributi comunali restano invece invariati, non sono state mai portate al massimo nel corso di questo mandato a dispetto di una situazione finanziaria che era notoriamente molto molto seria e che ci ha impegnato nel corso dell'intero mandato sindacale. Per quanto riguarda i rifiuti l'ha parlato di un servizio migliorato perché c'è il porta a porta a livello comunale i cittadini si aspettano anche l'introduzione delle premialità. Migliorato e siamo onesti da migliorare. Abbiamo fatto un grande sforzo sotto questo aspetto sia perché venivamo come noto da una situazione fallimentare tecnicamente tale della precedente società di gestione che era la SETA abbiamo dovuto chiudere un accordo transattivo con un notevole beneficio in termini di milioni di euro per il comune di Nocera abbiamo potuto mantenere un servizio positivo rispetto al complesso dei comuni a noi vicini e migliorandolo in termini di raccolta differenziata nell'ultimo semestre c'è da quando è entrata pienamente a regime su tutto il territorio comunale raggiungendo quasi il 50% il 49.2% perché nello spazio di un 6 mesi è un incremento percentuale di quasi il 14% quindi un servizio significativamente migliore con un buon utilizzo dell'isola ecologica scontiamo difficoltà serie sul personale, sullo spazzamento, sul controllo dei conferimenti e questa è una tappa che ci deve impegnare di qui all'immediato futuro compresi i meccanismi di premialità che abbiamo anticipato nel corso della precedente conferenza stampa a beneficio degli utenti, dei cittadini, a maggior ragione quelli che si serviranno con più continuità dell'isola ecologica Già dal prossimo anno? Credo dal prossimo trimestre